Obiettivi raggiunti. Il progetto civico fatto un sogno che ha avuto luogo il 14 e il 21 ottobre all'interno della villa comunale di Sciacca dopo aver fatto rivivere il prezioso polmone Verde Saccenze attraverso le donazioni di avventori e sponsor ha consentito anche di raccogliere la somma necessaria per la sostituzione della pompa irrigua non più funzionante e per la creazione di un percorso ludico per bambini. E' il comitato organizzatore dell'iniziativa a comunicare oggi con soddisfazione di avere raccolto la somma di 2.000 euro nel corso delle due domeniche di notevole affluenza all'interno della villa comunale dove si sono svolte diverse iniziative di intrattenimento. Un valido esempio di cittadinanza attiva da parte di Anita Lorefice, Serena Blandina, Lorenzo Navarri, Alessandro Mucare e delle tante associazioni e comitati che hanno dato il proprio contributo consentendo a tante famiglie di trascorrere due piacevoli mattinate all'interno della villa comunale di Sciacca. Nei prossimi giorni i responsabili del progetto si adopereranno per arrivare all'acquisto e all'installazione della pompa irrigua e alla realizzazione del percorso ludico per i bambini. Intanto la buona riuscita dell'iniziativa ha spronato i volontari ad organizzare un terzo evento all'interno della villa comunale di Sciacca. La data non è stata ancora stabilita anche a causa delle avverse condizioni meteorologiche.